Ecco a noi Paolo Costa, volevo chiederle, Quiddys alla fine è stato uno strumento tecnico, qualcosa di vuoto e quello che conta è il contenuto, il contenuto dei ragazzi. Sì, da questo punto di vista i risultati sono stupefacenti, io sono rimasto davvero molto colpito dalla qualità dei lavori di tutti, tutti i ragazzi, quelli che hanno vinto ma anche quelli che non sono stati premiati. Sicuramente questo è il risultato della capacità che questi ragazzi hanno dimostrato di lavorare bene insieme ed è per me la cifra significativa di questa esperienza. I ragazzi hanno provato qualcosa che purtroppo non sempre, non troppo spesso si fa a scuola, hanno provato a produrre degli output lavorando insieme, come gruppo, come comunità e questa è un'esperienza fondamentale perché è alla base di quello che dovranno fare nel mondo del lavoro. E la tecnologia che ruolo ha nell'apprendimento? La tecnologia è fondamentale perché permette intanto di integrare più linguaggi, più mezzi, più modalità espressive. Abbiamo visto in questo senso che i ragazzi si sono trovati a loro agio con il linguaggio scritto, con i contenuti multimediali, con i filmati, con le fotografie. Hanno usato molto bene anche gli strumenti interattivi che l'applicazione ha messo loro a disposizione e quindi hanno fatto dei test molto interessanti. E l'altro vantaggio delle tecnologie digitali è che poi questi contenuti possono essere messi a disposizione di un pubblico ampio.